Eccoci, buonasera. Il telegiornale partirà con ciò che inizia tra pochi minuti. C'è un consiglio dei ministri molto importante, c'è il progetto di bilancio da mandare subito a Bruxelles, c'è però la legge di bilancio che contemporaneamente viene varata dal governo, così come il decreto fiscale e anche l'aggiornamento di ciò che tanto si è parlato delle accise. Quindi tantissimo contemporaneamente, tutto si allinea in un consiglio dei ministri, non a caso, programmato per questa sera e domani già Meloni va verso Bruxelles al vertice europeo, poi sarà, come era già stato preannunciato ieri, nella fine settimana in Libano, per una missione cruciale ovviamente per parte italiana, siamo il contingente più forte nell'Unifil, si sa tutto quello che è successo. Anche di tutto questo si è parlato oggi tra Camera e Senato in seguito alle comunicazioni della stessa Meloni, della Presidente del Consiglio, in vista appunto del vertice europeo, a cui parteciperà anche Volodymyr Zelensky, invitato dal Presidente Michel. Allora, che cosa ha detto Meloni? Tante cose. Ha confermato l'altolà molto duro nei confronti di Israele, pur mettendo ovviamente in guardia ancora una volta contro l'ondata di antisemitismo, ha ribadito la posizione a fianco dell'Ucraina e ha parlato di tante cose, compresa la questione migranti. Lo dico e la cito perché su questo c'è una battaglia forte con Schlein, che ha contrattaccato con durezza, ma ancora di più con Conte, che su tutta la materia internazionale è stato molto duro, a cominciare dalla questione degli armamenti, delle armi per Israele, su cui peraltro Meloni ha annunciato che di fatto dal 7 ottobre non ci sono nuovi invii di armi. Ma come vedremo c'è stato in questa doppia riunione, doppia seduta Camera e Senato, c'è stata anche un'altra battaglia sul caso Fitto. Cos'è? Come si sa, Raffaele Fitto, ministro dell'attuale governo, è il candidato che è stato prescelto da von der Leyen per essere vicepresidente esecutivo della Commissione, con anche incarichi di commissario. E su questo Meloni ha sfidato l'opposizione, soprattutto il PD, a votare in sede europea a favore di Fitto, quando ci sarà da dare la pagella finale dell'Europarlamento a ciascuno dei commissari. Una sfida è che Schlein ha raccolto in parte, dicendo vedremo il programma, ma ha anche ricordato. Ma cinque anni fa, quando fu Gentiloni, il commissario indicato dal governo italiano, come si comportò Meloni? Secondo Schlein fu contraria. Vedremo, faremo il fact-checking di tutto questo. Ma come avete capito c'è una grande questione italiana, che sta tra le decisioni del governo che si sta per riunire, teoricamente tra cinque secondi dovrebbe iniziare la riunione, e poi tutta la materia internazionale che ci riguarda, che ci riguarda anche su cui c'è questa sera un attacco duro, un avvertimento duro del segretario alla difesa e di quello agli esteri, del capo, cioè del Dipartimento di Stato, Austin e Blinken, nei confronti di Netanyahu e del governo di Tel Aviv, dovete subito far passare gli aiuti per la popolazione civile di Gaza. Subito vuol dire immediatamente, non entro 30 giorni. Come dire, avete dilazionato fin troppo e ci sono stati purtroppo gli episodi che ben sappiamo. C'è tensione quindi tra Washington e la capitale israeliana e vedremo come anche oggi ci sono stati tanti eventi nel conflitto che sta ovviamente tra Gaza, ma anche il sud del Libano, in attesa del colpo sull'Iran. E c'è tanto altro, poi come vedremo, tra cui una clamorosa inchiesta che porta all'arresto del direttore generale di Sogei, è quella azienda di diretto riferimento del Ministero dell'Economia che si occupa di acquisti nella pubblica amministrazione. È un caso di corruzione e concussione che tocca più o meno direttamente anche, vedremo come, Elon Musk, tanta roba. Tra un minuto inizia il telegiornale. Buonasera, come sapete, se avete ascoltato l'anteprima ci sono molti fatti importanti. Cominciamo con quello che dovrebbe partire in questo momento, a Palazzo Chigi, un Consiglio dei Ministri della massima rilevanza. Perché? Perché c'è da fare la legge di bilancio, la promessa di bilancio quadriennale da inviare subito a Bruxelles il decreto fiscale e non soltanto. Insomma, un pacchetto che fa di questa probabilmente la riunione più importante da quando è nato il governo del Consiglio dei Ministri. Vediamo. Consiglio dei Ministri in prima serata. Il menù corposo consta del documento programmatico di bilancio da inviare a Bruxelles entro la mezzanotte dello schema della manovra e del decreto fiscale ad essa collegato. All'ultimo minuto si è aggiunto anche un altro decreto, quello per la modifica delle accise sui carburanti in vista al riallineamento tra benzina e gasolio con l'annunciato rincaro di quest'ultimo. Il piatto forte chiaramente è rappresentato da una legge di bilancio rispetto alla quale è già trapelato molto, ma appunto è quello che sappiamo finora. Molto può ancora cambiare tra misure che potrebbero entrare e altre destinate a uscire da un testo che dovrebbe valere circa 25 miliardi. Il punto fermo dovrebbe essere la conferma del taglio del cuneo fiscale per i redditi fino a 35 mila euro lordi annui e l'accorpamento delle prime due aliquote IRPEF. Il costo è noto, 14 miliardi di euro. Se, come promesso più volte dal Ministro dell'Economia Giorgetti e dal sottosegretario Leo, le due misure diventeranno strutturali, strutturali dovranno essere anche le coperture, ossia le entrate, che dunque non potranno essere in deficit. E allora le risorse dovranno provenire da minori spese o maggiori entrate. Su quest'ultimo fronte si dà per scontato il controverso contributo richiesto alle banche. Qui le discussioni sono continuate fino alle immediate vicinanze del Consiglio dei Ministri, sia nella maggioranza che con gli stessi istituti di credito. Da tale contributo dovrebbero arrivare tra i 3 e i 4 miliardi di euro, sotto che forma al momento non è dato saperlo. Possibile anche un intervento sulle detrazioni in vista di una successiva e più complessiva ristrutturazione di quella che spesso viene definita una selva. Tra le ipotesi, l'introduzione di un importo massimo da detrarre, modulato in base al nucleo familiare, e quella di rivedere a ribasso la soglia di reddito sopra la quale scatta la riduzione degli sconti fiscali al 19%, ad oggi 120 mila euro. Dovrebbe rimanere al 50% per tutto il 2025, ma solo per le prime case il bonus sulle ristrutturazioni edilizie. Sul versante delle minori spese, invece, l'attenzione si concentrerà sulla spending review. Giorgetti ha più volte chiesto sacrifici a ministri non proprio felici di assecondarlo. Alla fine, per raggiungere l'obiettivo di 3 miliardi fissato dal titolare dell'economia, ciascundì Castero dovrebbe operare tagli lineari del 5% con la possibilità di decidere come distribuire la cifra imposta dal MEF. Varrà per tutti, ma non per la sanità. Il fondo sanitario, infatti, come annunciato dal ministro Schillaci, dovrebbe vedere aumentata la sua dotazione di oltre 3 miliardi soldi da destinare ad assunzioni e defiscalizzazioni in modo da rinforzare un personale ridotto all'osso e garantirgli stipendi più alti. Avete visto che in ogni cartello c'era un punto interrogativo a fianco delle misure che si ipotizzano e che sono filtrate in queste ore. La verità è che in Consiglio dei Ministri entra un pacchetto di proposte e poi bisognerà vedere quale ne sarà l'esito finale. Tutto in una notte, potremmo dire, perché i tempi sono strettissimi, anche perché forti sono gli impegni che porteranno nel fine settimana Meloni in Libano e Tajani in Israele per missioni che sono in una fase cruciale, come sapete, del conflitto. Non è l'Italia che deve risolvere il conflitto medio orientale, ma ci spetta un ruolo in quanto presidenti di turno del G7, come ben sappiamo. E in mezzo c'è il Consiglio europeo, un Consiglio europeo che fatalmente si occuperà anche di un altro conflitto, visto che tra gli invitati a Bruxelles ci sarà anche Volodymyr Zelensky, il presidente dell'Ucraina. Ma in vista di tutto questo, come sempre accade, quando c'è un Consiglio europeo in avvicinato svolgimento, cioè dopo domani, c'è stata questa mattina la serie di comunicazioni alla Camera e al Senato del presidente del Consiglio. Cosa ha detto Meloni? E poi vedremo anche come le hanno risposto le opposizioni. Riteniamo perciò che l'atteggiamento delle forze israeliane sia del tutto ingiustificato, oltre a rappresentare una palese violazione di quanto stabilito dalla risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Giorgia Meloni riferisce in aula al Senato prima e alla Camera poi, in vista del Consiglio europeo di dopo domani, dove la delicata situazione in Medio Oriente cannibalizza la leggenda. Pretendiamo sicurezza per i nostri soldati, aggiunge Meloni, che ricorda di averlo ribadito al presidente Netanyahu e che annuncia che venerdì sarà in Libano, dove si trova il contingente Unifil. Una trasferta più che simbolica da presidente del G7. Il ministro degli esseri italiani, invece, aggiunge, sarà in Israele e Palestina la settimana prossima. Necessario fare tutto il possibile per la de-escalation, dice la Premia, è rivolta alle opposizioni, anche con la nostra presenza. La critica di Israele per gli attacchi è accompagnata dalla cautela per la situazione generale. Va evitato, dice Meloni, un isolamento del paese, che sarebbe stato proprio l'obiettivo, spiega dei feroci attentati del 7 ottobre. Sbagliato fare il gioco dei fondamentalismi. Quanto ai due stati, resta l'obiettivo del governo, ma riconoscere lo Stato palestinese non risolverebbe la crisi, dice rivolta alle opposizioni. Le pur legittime critiche a Israele troppo spesso trascendono in giustificazionismo verso Hamas o Hezbollah, che tradisce altro, come dimostrano le manifestazioni di piazza a Fonda. Alle opposizioni spiega poi che sulle armi ad Israele siamo una delle nazioni più rigide in assoluto sullo stop, deciso proprio dopo il 7 ottobre per le nuove commesse. Sullo scacchiere estero, Romeloni rivendica anche il sostegno all'Ucraina. Non l'abbandoniamo, come suggerisce qualcuno, dice rivolta ad una grossa fetta delle opposizioni. Parole buone anche per l'alleato Salvini, seduto al suo fianco. Sbagliato far pensare che i nostri ragazzi stiano per partire per la guerra in Ucraina, per lucrare voti, dice rivolta ai 5 Stelle, ma l'affondo più duro arriva sui conti pubblici. Ci vuole una maschera di ferro per accusare questo governo di gettare i soldi dalla finestra. Anche volendo questo governo non potrebbe gettare i soldi dalla finestra, perché li avete già gettati tutti voi. Un crescendo che raggiunge lo Zenit sulla transizione ecologica. Guardi, il giorno che mi faccio spiegare che cosa ho detto da un esponente del Movimento 5 Stelle, mi dimetto, guardi. Altro capitolo in agenda al Consiglio europeo è il tema migranti con la Premier che rivendica il modello Albania nel mirino delle opposizioni. La nostra convinzione è che la via migliore non sia la redistribuzione ma la difesa dei confini. Sbagliato rovesciarsi i problemi addosso gli uni con gli altri. L'Inea spiega che la stessa von der Leyen avrebbe citato. A tre giorni dal processo Open Arms di Palermo infine difende il Vice Premier Salvini. Ringrazio lui come la guardia costiera per il lavoro svolto. Queste le parole di Meloni al Senato e alla Camera ma dure soprattutto alla Camera dove ci sono Schlein e Conte sono state le risposte dell'opposizione. Il Partito Democratico Presidente Meloni continuerà a inchiodarvi alle vostre responsabilità scansando il fumo della vostra propaganda ideologica ciò che resta è un governo che taglia la sanità taglia il sociale non ha un piano industriale nega il salario minimo aumenta la precarietà e la povertà premia gli evasori e calpesca i diritti state riportando il paese indietro ma noi vi fermeremo. Elie Schlein ribatte punto su punto dalle scelte della prossima manovra al trasferimento dei migranti in Albania alla politica estera. Lei fa la forte con i deboli e la debole con i forti dice la segretaria Dem rivolgendosi alla Premier ha fatto un attacco da Bull a Sea-Watch alza la voce con chi salva le vite umane in mare e non con Netanyahu chi attacca l'ONU attacca il mondo le chiediamo presidente di unirsi all'embargo totale delle armi inviate a Israele serve un immediato cessate il fuoco a Gaza e ora è Libano riconoscere lo stato di Palestina e tocca fare prosegue Schlein una specifica criticare Netanyahu non significa essere antisemiti noi l'antisemitismo l'abbiamo sempre condannato al contrario della giovanile del suo partito. Giuseppe Conte è durissimo sulla linea scelta dal governo su Ucraina e Medio Oriente bollata come ipocrita e ambigua replica gli affondi della Premier sul super bonus ricordando che esponenti della maggioranza hanno fatto emendamenti per estenderlo attacca i condoni finanziati spiega dai cittadini onesti chiede una tassa vera sugli extraprofitti non solo delle banche e critica e taglia la sanità pubblica a vantaggio di quella privata degli imprenditori amici su via la smetta con questo vittimismo complottista si tolga il guscio di Calimero gli italiani l'hanno votata per governare non per lamentare la fatica di governare e complottismi vari governi se ne è capace Meloni deve delle scuse a Sea-Watch incalza Angelo Bonelli alleanza Verdi e Sinistra Matteo Renzi nel dibattito a Palazzo Madama ironizza sulla politica estera del governo la Premier dice che diamo la linea ma siamo l'unico paese del G7 a dire no all'uso delle armi in Russia sottolinea ho detto che il governo con le risoluzioni di maggioranza votate ovviamente sulle parole di Meloni ha ottenuto la maggioranza alla Camera i sì sono stati 190 i no 117 gli astenuti 10 c'è un altro elemento del dibattito che è stato forte e che isoliamo che lasciamo da parte e vi vogliamo mostrare perché Meloni ha chiesto alle opposizioni soprattutto al PD di concorre al voto favorevole per Raffaele Fitto vicepresidente della Commissione Europea quando lo dovrà votare l'Europarlamento e su questo si è innescato un nuovo botta e risposta L'invito alle opposizioni che si trattava che si trattava del commissario italiano una scelta completamente diversa per quello che riguardava il commissario italiano è quello che noi abbiamo fatto nella scorsa legislatura all'atto della nomina di Paolo Gentiloni quando proprio Raffaele Fitto in rappresentanza di Fratelli d'Italia si espresse a favore del candidato italiano e conseguentemente il gruppo di ECR votò in suo favore dice Meloni la risposta di Elislai è durissima Valuteremo attentamente le audizioni di tutti i candidati commissari Fitto compreso ma non pensi di salire in cattedra a dare delle elezioni perché lei chiamò una piazza contro Gentiloni a votare a favore fu il vostro capogruppo olandese ma voi votaste contro Fitto compreso a tutta la Commissione Europea Ma come sono andate le cose? Proviamo a riavvolgere il nastro L'indicazione di Paolo Gentiloni come commissario europeo arrivò il 5 settembre 2019 in pieno passaggio dal governo Conte 1 quello Lega 5 Stelle al governo Conte 2 5 Stelle PD la reazione della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni è in questo tweet a volte ritornano i cittadini li hanno cacciati dalla porta con le elezioni il Movimento 5 Stelle li fa rientrare dalla finestra con l'inciucio il testo sulla foto di Gentiloni un appuntamento al 9 settembre per una manifestazione contro il nuovo governo davanti Montecitorio in coincidenza con la fiducia al Conte 2 la scena poi si sposta a Bruxelles dove il 3 ottobre Gentiloni si sottopone all'esame della commissione affari monetari ed economici del Parlamento europeo l'esito è positivo anche il gruppo dei conservatori europei di cui Fitto fa parte vota a favore della sua nomina quando poi si arriva a fine novembre al voto definitivo sulla commissione guidata da Ursula von der Leyen con Gentiloni commissario all'economia nell'aula dell'Europarlamento la scena cambia nel gruppo dei conservatori 30 parlamentari votano a favore 14 sono astenuti mentre 16 votano contro tra i contrari ci sono tutti i parlamentari europei di Fratelli d'Italia compreso Fitto Così andò quindi ed era giusto andare a verificarlo ebbene questa è la cronaca di una giornata importante sulla scena politica italiana ma in realtà molto si riverberava dal conflitto in atto in Medio Oriente avete sentito anche che il governo porterà Meloni e anche Tagliani ministro degli esteri a visitare nei prossimi giorni Libano Israele Palestina ma in queste ore sta succedendo qualcosa di importante dal punto di vista diplomatico perché con una lettera congiunta ai loro omologhi israeliani il segretario alla difesa americano Austin e il segretario di Stato Blinken il ministro degli esteri plenipotenziario degli Stati Uniti hanno avvertito appunto il governo di Tel Aviv o arrivano subito possono entrare subito tutti gli aiuti nella striscia di Gaza gli aiuti umanitari che vengono fatti entrare con contagocce o addirittura bloccati da Israele o noi sospenderemo l'invio di armi e di aiuti allo Stato ebraico una presa di posizione molto dura e molto netta che evidentemente fa seguito alle incomprensioni chiamiamole così di cui tanto si è parlato nel famoso colloquio telefonico tra Biden e Netanyahu e del resto anche oggi è stato un giorno di guerra Nuseirat Cagnonis Gaza City Javalia Al Zeytun i bombardamenti della scorsa notte hanno colpito la striscia ovunque una cinquantina le vittime dall'inizio del conflitto i morti sono 42.344 in questo scenario di devastazione oggi il richiamo del vaccino antipolio e la somministrazione della vitamina A ha raggiunto comunque oltre 93.000 bambini i più deboli anche in Libano dove l'Unicef stiva che con l'allargamento del conflitto a sud almeno 400.000 siano già sfollati nella striscia la crisi umanitaria è sempre più grave solo ieri sono tornati dopo due settimane i camion degli aiuti umanitari gli Stati Uniti minacciano un embargo sulle armi se entro un mese non si troverà una soluzione lo hanno rivelato i media israeliani con la pubblicazione di una lettera scritta dai segretari di Stato e alla difesa USA Blinken e Austin ai ministri Dermere Gallant la crisi di Gaza è legata al destino del Libano lo ha detto il vice segretario di Hezbollah Naim Kassem parlando ai media arabi Israele ha detto ci ha chiesto di arretrare di 10 chilometri dalla Blue Line ma deve fermare gli attacchi a Gaza realizzare un cessato il fuoco solo così i residenti del nord potranno tornare alle loro case e forse anche gli ostaggi a casa anche se lo stesso ministro della difesa Gallant oggi parlando con i familiari ha ammesso che c'è uno stallo nelle trattative tornando a Kassem nel suo discorso non ha potuto negare che la leadership di Hezbollah sia stata duramente colpita da Israele ma ciò non ha indebolito la capacità di colpire con i missili tutto il paese e anche oggi ne sono stati lanciati su Haifa Da Washington intanto appena è arrivato il sistema di difesanti aerea TAAD con un centinaio di soldati avrebbero un ruolo di deterrenza per eventuali nuove mosse di Teheran che resta in attesa della risposta israeliana all'attacco del primo ottobre e che dovrebbe puntare ai siti militari almeno questo avrebbe detto Netanyahu a Biden la scorsa settimana a Teheran oggi è riapparso Ismail Kani comandante delle forze al Quds dei Pasdaran era in lacrime al funerale di Abbas Nilforushan morto nello stesso raid che ha ucciso Nasralla su di lui circolavano voci che lo davano per morto nel bombardamento di Beirut o addirittura in carcere sotto tortura per estorcergli la confessione di essere passato al nemico ed essere un agente del Mossad ecco la ricomparsa di questo super dirigente diciamo dei Pasdaran iraniani ci conferma anche quante voci infondate anche se autorevolmente riportate girano attorno al conflitto medio orientale stiamo ai dati di fatto i dati di fatto sono quelli che vi ho detto e tra l'altro gli Stati Uniti hanno anche ammonito Israele a cessare ogni bombardamento su Beirut confermando invece quello che era stato detto nella scorsa settimana tra l'altro ultima segnalazione al riguardo c'è da segnalare anche una burrascosa telefonata tra Macron e Netanyahu in cui il presidente francese di passaggio ma con un certo peso ha ricordato che bisogna rispettare l'ONU e riferimento ovviamente all'Unifil in Libano anche perché non deve mai dimenticare Netanyahu che lo Stato ebraico Israele nacque da una decisione dell'ONU quella famosa del novembre del 1947 passata ovviamente alla storia dovevano nascere insieme lo Stato ebraico e uno Stato arabo al suo fianco poi i paesi arabi decisero di fare la guerra al nascente Stato di Israele ed allora praticamente pace non è stata mai ma c'è un altro tema che riguarda il Mediterraneo da sud a nord ed è quello dei migranti come si sa in queste ore in questi giorni si parla tanto di ciò che sta per avvenire sulle sponde albanesi del nostro mare vediamo l'arrivo è previsto per domani mattina a bordo ci sono i primi 16 migranti destinati ai centri di accoglienza dell'Albania la nave Libra della Marina Militare in viaggio da più di 24 ore potrebbe portare oltre agli oltre 70 membri dell'equipaggio fino a 200 ospiti ma per la prima missione sono state selezionate soltanto 16 persone tutti uomini adulti provenienti da due paesi che il governo considera sicuri e cioè Egitto e Bangladesh arriveranno nello spot da 200 posti di Shenzhen sulla costa a nord del paese dove verranno identificati e dopo aver fatto domanda d'asilo verranno portati in un centro d'accoglienza distante una ventina di chilometri quello di Jader dove rimarranno nei prefabbricati costruiti dai nostri militari sino a Caliter per l'accoglimento e il respingimento della domanda terminerà tutte le operazioni saranno gestite dalle autorità e dal personale italiano così come a carico dell'Italia saranno tutti i costi tema questo che insieme a quello dei rimpatri scatena furiose polemiche c'è infatti la questione dei paesi di origine dei migranti una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea ha infatti ridefinito cosa debba intendersi per paese sicuro che deve esserlo in tutto il suo territorio senza zone che comportino rischi per chi viene rimpatriato e inoltre ha attribuito ai giudici nazionali il diritto e il dovere di esaminare l'eventuale rifiuto amministrativo a una domanda di asilo alla luce proprio di questa sentenza problemi giuridici che sembrano non preoccupare la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen che vede con interesse l'idea di sviluppare hub per i rimpatri fuori dall'Unione Europea e questo per quanto riguarda i grandi fatti che coinvolgono il nostro paese l'Europa e il fianco sud e sud-est del Mediterraneo ma poi c'è un'altra piaga che da un po' di tempo ha cominciato di nuovo a sanguinare in Italia quella della corruzione oggi un clamoroso arresto La corruzione portata a sistema indagati manager pubblici imprenditori privati funzionari dei ministeri un capitano di fregata e perfino il rampante referente di Elon Musk in Italia e il quadro tratteggiato dal pool di magistrati della Procura di Roma che indaga su una serie di appalti e affidamenti in materia di informatica e telecomunicazioni bandite da SOGJSPA dal Dipartimento Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno dal Ministero della Difesa e dallo Stato Maggiore della Difesa un'inchiesta che nelle ultime ore ha avuto un'accelerazione improvvisa e necessaria portando all'arresto del direttore generale Area Business di SOGJ la società interamente controllata dal Ministero dell'Economia che si occupa di bandire le gare di appalto per i sistemi informatici delle strutture pubbliche Paolo Iorio è stato arrestato con in tasca una mazzetta da 15.000 euro appena ricevuta dall'imprenditore Massimo Rossi anche egli fermato dai militari della Guardia di Finanza legale rappresentante della Digital Value SPA società che avrebbe ottenuto appalti per un valore di 100 milioni di euro le accuse sono di corruzione e turbativa d'asta negli atti dell'indagine è scritto che il manager pubblico avrebbe ricevuto somme di denaro non quantificate ma da intendersi nell'ordine di decine di migliaia di euro con frequenza di circa due volte al mese dal novembre del 2023 incontri ed azioni di denaro monitorati anche attraverso intercettazioni questa mattina poi gli uomini della Guardia di Finanza hanno perquisito le sedi dei protagonisti dell'inchiesta che vede indagate 18 persone e 14 società la finanza ha bussato anche l'ufficio di Andrea Stroop manager trentenne esperto di cybersicurezza considerato il punto di riferimento in Italia di Elon Musk sotto la lente delle fiamme gialle c'è l'appalto della difesa per l'acquisizione del sistema satellitare Starlink creato dalla società del miliardario statunitense Stroop si è detto totalmente straneo ai fatti e dichiara che dimostrerà presto che i suoi rapporti con pubblici ufficiali sono stati corretti e trasparenti secondo i magistrati avrebbe ricevuto notizie sull'operazione un documento riservato della Farnesina da un capitano di fregata della marina militare Antonio Angelo Masala indagato così come la moglie anche per aver ricevuto da Rossi l'imprenditore arrestato ieri sera una tangente non quantificata per aggiudicarsi una gara da 180 milioni di euro sempre nel settore informatico del comparto difesa secondo gli atti dell'inchiesta lo stesso imprenditore Rossi per conto di un gruppo di società avrebbe avuto dei benefici anche per ottenere una commessa da 20 milioni di euro dal dipartimento pubblica sicurezza del ministero dell'interno ad adoperarsi in suo favore sarebbe stato Amato Fusco direttore della terza divisione del servizio telecomunicazioni della direzione centrale dei servizi logistici della gestione patrimoniale della polizia la cui compagna detiene azioni per 10 mila euro di una delle società interessate all'affare tra l'altro come avete sentito una delle cose che si addebitano in ipotesi sia agli indagati pubblici chiamiamoli così sia a Andrea Stroppa collaboratore italiano di Elon Musk che è il passaggio di un documento riservato della Farnesina che gli sarebbe stato appunto consegnato da un esponente della Marina ebbene proprio il ministero degli esteri mette a questo riguardo una precisazione molto chiara da alcuni mesi sono in corso valutazioni sulla possibilità di utilizzare sistemi Starlink per le comunicazioni di installazione della presidenza del consiglio degli esteri e della difesa in aree problematiche si tratta di migliorare il livello delle comunicazioni di ambasciate e addettanze così si dice testualmente cioè gli addetti militari soprattutto nell'area del Mediterraneo secondo informazioni di stampa un indagato del caso Stroppa Sogei avrebbe passato all'esterno dell'amministrazione un documento riservato non si tratterebbe viene precisato di un documento davvero riservato secondo la classificazione di legge della documentazione riservata e segreta dovrebbe trattarsi di un documento interno un elenco di necessità espresse dal Ministero il numero delle ambasciate e i consolati da collegare al sistema se eventualmente fosse andata avanti la procedura il che ovviamente è ben diverso che lo spionaggio il passaggio di documenti riservati a persona esterna e interessata economicamente a un affare vedremo ovviamente questa la precisazione che arriva dalla Farnesina purtroppo non è l'unico caso di oggi e tocca ricordare che perquisizione della Guardia di Finanza di Milano ci sono state oggi nelle sedi della società Ernst & Young a Roma e a Milano e nel palazzo della regione Lombardia l'indagine della procura europea riguarda finora una ventina di gare d'appalto finanziate con fondi dell'Unione Europea e assegnate dalla regione Lombardia a Ernst & Young che è una società di consulenza importantissima per un valore di oltre 20 milioni di euro sei dipendenti della società di consulenza contabile finanziaria una delle più grandi a livello mondiale sono indagati per turbativa d'asta e turbata libertà degli incanti la regione Lombardia risulta parte l'ESA vedremo ovviamente come evolve questa questione l'ultima notizia che tocca dare perché la troverete un po' da tutte le parti e in ipotesi è ovviamente clamorosa è l'accusa di violenza sessuale che secondo quanto diffondono i quotidiani svedesi è stata rivolta a uno dei più famosi calciatori del mondo Kylian Bappé Bappé che come si sa appunto è francese gioca adesso nel Real Madrid è accusato sostanzialmente di avere di avere mosso violenza di aver stuprato una ragazza e l'inchiesta si è aperta dopo una denuncia che è stata presentata per presunti abusi che sarebbero stati compiuti cinque giorni fa quindi recentissimamente in un albergo di Stoccolma Bappé proclama la sua assoluta estraneità la sua innocenza e ha intrapreso le vie legali ha annunciato il suo avvocato pensate anche Bappé il più grande attaccante ha bisogno di un difensore comunque il suo avvocato ha detto che in realtà farà un'azione è legale per il tentativo di diffamare illecitamente appunto questo grande campione dopo di noi a otto e mezzo gli ospiti di Lilli Gruber sono Massimo Giannini Paolo Mieli Brunella Bolloli e Giovanni Di Lorenzo poi è martedì e quindi c'è Floris nel suo programma ci vengono segnalati Lella Costa Corrado Augas Enrico Letta ci fermiamo Allora scusate veniamo a sapere che proprio soltanto in questo momento è iniziata l'attesa riunione del governo del Consiglio dei Ministri come si sa sul tavolo ci sono leggi di bilancio documento programmatico da inviare a Bruxelles ma anche decreto fiscale e decreto per la revisione delle accise saprete tutto se vi interessa come immagino durante la serata Gruber Floris o nell'edizione della Notte del Telegiornale domani